Buongiorno a tutti, sono sempre Vittor Laszlo88 per iniziare con il video di oggi vi ricordo che su sito i pampling che trovate linkato e iscritto qui sotto per ancora qualche giorno ci sono tutte le magliette a 10 euro tra cui anche quella che trovate linkata e iscritto qui sotto con il simbolo di Sauron che si vede in Rings of Power quindi se vi interessa questa maglietta o se interessano anche le altre o qualunque prodotto al catalogo potete acquistare aggiungendo un paio di calze a vostra scelta e se usate il codice VILASZLO le calze non le pagate quindi se la cosa vi interessa sapete cosa fare ora però bando alle cianci iniziamo subito con il video di oggi sigla allora dopo le due reaction al trailer di Secret Invasion e a quello di Werewolf by Night è giunto il momento di un bel recap di quello che è stato presentato ieri nella parte di Marvel Studios del pan che comprendeva Marvel Studios Lucasfilm e 20th Century Fox perché è stato un panel molto bello al D23 Expo ripeto se non lo sapete il D23 Expo è un evento organizzato da Disney ogni due anni anche se per la causa del Covid erano tre anni che non lo facevano esclusivo per i tesserati al Disney Club da tutto il mondo anche dall'Italia ci si può tesserare anche in Italia ovviamente poi però le spese di viaggio e di pernottamento sono a carico vostro se volete andare però avete quantomeno il biglietto d'ingresso poi ci sono dei panel che richiedono un biglietto aggiuntivo perché sono delle robe veramente enormi però comunque è riservato a chi è tesserato al Disney Club e di solito non streamono mai nulla stavolta qualcosa hanno streamato questo panel non è stato streamato ma in ogni caso hanno mostrato qualche trailer in più rispetto al solito perché comunque durante il panel hanno mostrato anche delle clip o dei trailer che in effetti erano esclusivi per chi si trovava in sala in quel momento abbiamo delle descrizioni ma non li abbiamo ancora visti e forse non li vedremo mai è la stessa cosa che succede spesso anche al Comic Con al Comic Con hanno presentato alcune cose in sala su Guardiani della Galassia o Ant-Man and the Wasp o Antumenia che noi non abbiamo ancora visto quindi voglio farvi un recap di quello che hanno presentato posso dire che secondo me è stato un panel meno entusiasmante forse di quello del Comic Con dove hanno presentato un sacco di prodotti della fase 5 e della fase 6 così a sorpresa tra cui due film di Avengers Avengers, Kang Dynasty e poi Avengers Secret War però il fatto è che qui hanno presentato più materiale ogni annuncio l'ha supportato da immagini o da una clip che magari non abbiamo visto però c'era perché era lì quindi è stato un panel più di sostanza quello del Comic Con era eccezionale nella forma però alla fine ci hanno detto poco sui prodotti qui era per lo più un ribadire che sarebbero usciti certi film o serie di cui già sapevamo effettivamente che sarebbero usciti ma hanno presentato qualcosa in più hanno approfondito poi sì ci sono state un paio di delusioni molte persone si sono arrabbiate perché ancora non ci hanno svelato il cast dei Fantastici 4 probabilmente deve esserci stato un qualche problema se ne parlava con Rob sembra che potrebbe essere che magari dovevano portare qualcuno ma ancora non si era definito bene il contratto e quindi per evitare di presentare qualcuno che magari poi non sarebbe stato protagonista hanno preferito presentare altro però ad esempio ci hanno detto chi sono i Thunderbolts quindi probabilmente questa cosa l'hanno fatta come emergenza non avendo potuto presentare i personaggi dei Fantastici 4 cioè gli interpreti dei personaggi per cui è un'ipotesi però per cui posso anche capire nel caso in cui fosse andata così mi sembra strano che non possano ancora presentare gli attori evidentemente c'è stato qualche piccolo problema alcuni si aspettavano degli annunci sugli X-Men però sempre parlando con Rob è emerso che in teoria loro fino al 2026 non possono utilizzare il termine mutante possono utilizzare al massimo mutazione come i Miss Marvel oppure non possono utilizzare i personaggi degli X-Men in live action perché è vero che hanno riacquisito i diritti però c'è una clausola per cui se loro fino al 2026 vanno a utilizzare personaggi, nomi e quant'altro che riguardi i film in live action degli X-Men anche rielaborazioni devono pagare i diritti a Bryan Singer e i soci che hanno creato quei personaggi quindi fino al 2026 in teoria poi queste cose non si sa mai come vanno ma per ora sembrerebbe prendete questa cosa con le pinze ma sembrerebbe che non possono effettivamente parlarne apertamente infatti Miss Marvel non si parla di mutanti ma di mutazione ma soprattutto è vero che hanno utilizzato Patrick Stewart come Chuck Xavier in Doctor of Strange and Multiverse of Madness ma se ci fate caso era abbigliato come nella serie animata e in teoria la serie animata è qualcosa che possono sfruttare non era un riferimento ai film e infatti tanto quando si parla di mutazione in Miss Marvel tanto quanto compare Xavier in Doctor Strange in The Multiverse of Madness si sente una musica in sottofondo che non è quella dei film è quella della serie animata se ci fate caso queste informazioni combaciano perfettamente quindi può anche starci che non abbiano presentato noi prodotti degli X-Men in generale a me il panel ha sinceramente interessato mi è piaciuto l'ho trovato molto ricco quindi andiamo a vedere che cosa hanno presentato hanno iniziato con Wakanda Forever non è arrivato un nuovo trailer come avrei pensato anche perché mancano un paio di mesi pensavo che i tempi fossero maturi per avere un trailer magari lo presentano al Comic Con di New York che però è a ottobre e forse è un po' troppo a ridosso dell'uscita vediamo cosa succederà e hanno anche presentato una clip che ovviamente non hanno mostrato e nella clip si vedono le Dora Milaje che difendono una base quindi combattendo estremamente poi c'è un momento di combattimento tra M'Baku e Namor due colossi che si sfidano e Kevin Feige ha detto che Black Panther Wakanda Forever è finora il più grande film in solitaria che abbiano mai fatto cioè un film non basato su Avengers o altri gruppi di supereroi quindi il più grande che abbiano fatto finora effettivamente il trailer ci fa pensare a qualcosa di colossale e molto più serio rispetto al solito io non avevo grande interesse per Wakanda Forever da quando hanno mostrato il primo trailer ha iniziato a interessarmi anche perché il senso è che con la morte di Challa che non sappiamo ancora come sia avvenuta è stato Namor non è stato Namor cosa è successo? ce lo spiegheranno ci diranno solo genericamente che è morto chissà comunque dopo la morte di Challa il Wakanda ha iniziato a cadere in rovina perché è scoperto non c'è più il suo protettore e quindi i governi stanno cercando di accapararsi le risorse di vibranio del Wakanda quindi potrebbe essere un film anche piuttosto politico a me non dispiace poi io sono dell'idea che pur senza utilizzare i vari termini i mutanti inizino a introdurceli e sono convinto che Namor sarà il primo mutante come nei fumetti non diranno quel termine però se è vero che fino a 2026 non possono utilizzare il termine quant'altro è anche vero che possono comunque introdurli senza incorrere in problemi legali perché il concetto alla fine non siamo scemi lo capiamo anche se non ci dicono certi termini quindi secondo me Namor sarà il primo mutante a livello cronologico non il primo comparso in un prodotto come sappiamo ma a livello cronologico quello che esiste era più tempo poi in realtà nei fumetti ci sarebbe anche Apocalisse ma quello è un altro discorso comunque sia è un po' complicata la questione rimaniamo in focus sull'MCU dove Apocalisse al momento non è mai stato neanche nominato comunque sia è interessante perché per l'appunto è un film che sembra anche molto doloroso è un grande omaggio a Chadwick Boseman che peraltro durante questo D23 è stato proclamato Disney Legend le Disney Legends sono un gruppo di personaggi eletti a Disney Legends ovvero persone che hanno contribuito a rendere grande Disney con i loro talenti cioè possono esserci anche persone che hanno fatto qualcosa per ABC ad esempio hanno proclamato Disney Legends l'altro giorno Ellen Pompeo e Patrick Dempsey per Grey's Anatomy che è un prodotto di ABC se non sbaglio che per l'appunto fa parte di Disney e consegnano un premio è andato a ritirarlo il fratello e Chadwick Boseman è stato nominato Disney Legend quindi si continua con il voler celebrare questo personaggio che comunque è stato molto amato ed è diventato un'icona per la comunità nera soprattutto negli Stati Uniti dell'America ho il telefono in mano perché ci sono tante informazioni e non voglio perdermela per strada quindi volevo un attimo ogni tanto buttare un occhio tra l'altro l'evento si è aperto con un'esibizione dal vivo di Rogers The Musical quello che abbiamo visto in Okai e hanno messo in scena tutta quanta la canzone che si vede nella serie quindi io speravo che alla fine della canzone dicessero che il musical avrebbe debuttato a Broadway per davvero oppure che lo hanno girato a teatro e arriverà su Disney Plus perché io che odio il musical Rogers The Musical lo voglio vedere assolutamente devo essere sincero ma comunque hanno mostrato il nuovo logo di Ironheart hanno mostrato un trailer che però non è stato mostrato a chi non era in sala quindi noi non l'abbiamo visto ma diamo la descrizione c'è Anthony Ramos che interpreta Hood che è un personaggio dei fumetti per appunto descritto come un personaggio complesso molto rissoso che ha a che fare con la magia con la stregoneria mentre invece Riri Williams ovvero Ironheart è un personaggio che si affida alla scienza quindi il vero scontro sarà tra scienza e magia e nel cast ci sarà anche Alden Ehrenreich che è il solo di solo a Star Wars Story tra l'altro nella clip mostrata di Wakanda Forever hanno detto che c'era anche una scena di volo di Riri Williams quindi lei è introdotta nel per l'appunto nel film e poi avrà la sua serie io per quanto riguarda le serie dei Marvel Studios su Disney Plus sono molto scettico perché sembrano sempre delle gran figate poi arrivano e ti accorgi che per buona parte hanno grossi problemi o sono proprio brutte ce ne sono alcune che si lasciano guardare altre che mi fanno incazzare dipende a questo punto da quanto si prendono sul serio è sempre quello il discorso poi hanno parlato di Ant-Man and the Wasp e hanno detto alcune cose hanno mostrato un teaser trailer in cui si vede la famiglia di Scott in macchina con lui che fa battute e parla di Spider-Man a un certo punto però poi diventa tutto più cupo quando entra in scena Kang Jonathan Mayers pare che sia spaventoso nell'interpretare questo villain e c'è la scena che era stata presentata anche al Comic-Con perché c'era già la descrizione e c'è Ant-Man che incontra Kang e Kang dice sei un Avengers ma io non ti ho già ucciso qualche altra volta perché Kang sta ammazzando si pensa gli Avengers di universo in universo sappiamo che Kang ha una sua versione malvagia che voleva conquistare l'universo in ogni universo e quindi partirà alla conquista del multiverso questa cosa è molto interessante Kevin Feige ha detto che questo film ci presenterà un nuovo modo di utilizzare i poteri già visti negli altri Ant-Man e che persone molto piccole faranno cose enormi e sembra che il film sarà una sorta di ice movie con Scott Lang che deve compiere una rapina per conto di Kang per salvare sua figlia Cassie che presumibilmente è tenuta da lui in ostaggio questa è un po' la trama del film e devo dire che sembra molto interessante come come idea per come la stanno mettendo giù hanno presentato il trailer di un prodotto che uscirà su Disney Plus il 7 ottobre quindi tra meno di un mese che è Werewolf by Night si vociferava da tempo questo progetto non si capiva se l'avessero abbandonato oppure no e ecco un trailer diretto da Michael Giacchino che è il compositore della colonna sonora di serie come Lost oppure di Up il film Pixar oppure ancora dell'ultimo Batman The Baton quello con Matt Reeves quello di Matt Reeves oppure ancora di Rogue One a Star Wars Story e molto altro e adesso si sta un po' reinventando anche come regista e Werewolf by Night è un medio metraggio di 40 minuti per l'appunto tratto da un fumetto Marvel minore e il trailer è in bianco e nero creato come se fosse il trailer di un film horror cheap degli anni 40 con effettacci abbastanza assurdi e mi sembra un atto d'amore verso un certo tipo di cinema che io personalmente amo quindi quando l'ho visto mi sono innamorato sembra un prodotto diversissimo rispetto al solito non credo che avrà un grande impatto nell'MCU sono abbastanza convinto che non ci saranno dei veri e propri collegamenti se non degli easter egg e sono piuttosto sicuro che alla fine del film ci sarà uno sketch con magari uno o due personaggi dell'MCU che già conosciamo che stanno guardando questo film sono convinto che per citare così alla vita il film è un film nel film sono abbastanza convinto che sia una cosa del genere quindi ho apprezzato è stato forse uno degli annunci più interessanti della serata peraltro credo sia una delle cose più strane foglie sperimentali che si siano viste finora nell'MCU io una roba del genere non l'avevo mai effettivamente vista e sono contento che puntino anche su prodotti di questo tipo per arricchire il catalogo di Disney Plus hanno presentato un serie di Secret Invasion che uscirà nel 2023 la serie ovviamente ho fatto la reaction anche di questo come di A Werewolf by Night e quindi non mi dilungherò troppo posso solo dire che francamente per quanto abbia delle vibes a Captain America di Winter Soldier per quanto sembri figo per quanto mi convinca per il discorso che ho fatto prima io tengo il culo stretto perché queste serie quando le presentano sulla carta sono sempre spettacolari poi ti accorgi che eh ma non si eh ma si prende troppo sul serio non dovrebbe perché ci sono delle cose assurde eh però la parte centrale fa schifo perché prima doveva essere un film poi è diventata una serie quindi hanno espanso la sceneggiatura ma non l'hanno fatto bene insomma bello che ci sia Nick Fury bello che ci sia Olivia Colman che ci sia Emilia Clarke che ci sia Everett Ross che ci sia Ben Mendelsohn e tutto quello che vuoi però comunque io guardo il trailer e penso sì ma ho paura che non sarà mai come sembra manterrà la serietà che serve avrà veramente delle vibes alla Captain America dei Winter Soldier o sarà un'altra vaccata io non lo so la guarderò però non lo faccio con l'entusiasmo che avevo prima di capire come fosse l'andazzo poi magari mi sbaglio sarò contentissimo di essere smentito senza dubbio hanno presentato Armor Wars che inizia a partire da Secret Invasion perché in Secret Invasion c'è Rodi e Rodi è il protagonista di Armor Wars quindi anche di questa mi interessa parecchio devo essere sincero sono particolarmente interessato deve essere una serie con una trama abbastanza complessa in teoria anche se di complessità io non è che ne abbia vista molta fino alle serie su Disney Plus del Marvel Studios però stiamo a vedere perché Secret Invasion ad esempio ha una connotazione da thriller fantapolitico Armor Wars dovrebbe essere qualcosa di un po' più action con Rodi che cerca di recuperare le tecnologie Stark finite in mano a gente poco raccomandabile che le ha rubate quindi magari si ripercorre un po' anche la storia di Tony Stark sul viale dei ricordi chissà Loki stagione 2 stanno girando adesso nel Regno Unito c'è come new entry l'attore che interpretava Data dei Goonies che sarà un hacker che diventerà un preziosissimo alleato di Loki si collegherà alla multiverse saga e in questa serie in questa seconda stagione Loki cercherà di avvisare tutti dell'imminente guerra nei confronti di Kang e hanno mostrato un footage in cui si vede un Kang di aspetto identico a quello visto nel trailer che hanno visto lì al D23 di Ant-Man and the Wasp ma con un carattere completamente diverso perché se c'è una cosa che abbiamo iniziato a capire è che Kang ha comunque delle declinazioni di universo in universo ad esempio la versione di Kang la prima che abbiamo conosciuto è quella che si ispira a Immortus nei fumetti che è il Kang più pacifico più tranquillo quindi vedremo diverse versioni di Kang e credo che Jonathan Mayors abbia dovuto fare un lavoro incredibile perché ogni volta ha dovuto interpretare un Kang diverso non oso immaginare che casino sarà per lui se in The Kang Dynasty nel film di Avengers metteranno in scena dei momenti con decine di Kang perché lui dovrà recitare nella parte di ciascun Kang che va a comporre la folla e poi dovranno assemblare tutto con la CGI come accadde o col montaggio come accadde con la puntata di End of Time di Doctor Who in cui il maestro interpretato da John Sim prendeva possesso ogni abitante della terra diventava lui e c'erano delle scene con la folla in cui lui interpretava ogni singola persona ci ha messo giorni interi a girare quella sequenza che durava qualche secondo in cui mostravano varie folle in giro per il mondo che erano sempre lui ma vestito ogni volta in maniera diversa e con comportamenti diversi quindi fu bravissimo in quel ruolo e fu abbastanza difficile non oso immaginare se faranno una cosa del genere quanto debba essere bravo Jonathan Mayors a recitare poi non aveva convinto molti nel ruolo di Kang in Loki perché era troppo sopra le righe ma era il personaggio essere così può piacere come no ma lui secondo me non era stato male era stato bravo ma se il regista ti dice devi farla così tu la devi fare così non è che poi opporti è il tuo lavoro quindi per questa sono curioso anche se la prima stagione non mi ha fatto impazzire aveva delle puntate ottime e puntate che mi hanno proprio fatto incazzare è un po' il problema di cui si parlava prima per cui la vedremo tra un annetto Echo che è una serie di cui non mi frega assolutamente niente perché il personaggio di Echo non mi ha mai detto nulla in Hokai e continuerà a temo a non dimmi nulla a meno che non mi sorprendano con effetti speciali in senso metaforico è stata mostrata una clip anche quella in esclusiva con lei che combatte contro Kingpin che ha la benda sull'occhio quindi significa che in Hokai si è beccato una pistolettata nell'occhio ma non è morto ovviamente si sapeva che non era morto e pare che avrà le stesse atmosfere di Moon Knight ma con gli dei dei nativi americani già questa descrizione mi fa scendere qualunque tipo di scintilla di curiosità non lo so Fantastici 4 hanno presentato giusto l'ufficialità del fatto che Matt Shackman già regista di VandaVision sarà regista anche di questo film quindi vedremo all'8 novembre 2024 come sarà non sappiamo qual è il cast ve l'ho anticipato prima Dare David Born Again diciamo che Vincent Donofrio era sul palco per Echo a un certo punto l'attrice se n'è andata e lui ha detto rimango sul palco perché adesso c'è da presentare il mio show e si è sentita la voce di Charlie Cox che ha detto vorrei dire il mio show ed è entrato sul palco è stato proiettato il logo che era quello che era già stato licato l'altro giorno che avevo mostrato nel video di previsioni su quello che avrebbero potuto mostrare in questo panel e hanno detto che la serie per l'appunto la gireranno nel 2023 e che non vedono l'ora di dimostrare quello che hanno in mente e poi hanno mostrato lo sneak peek di Daredevil che combatte contro Shulk e degli scagnozzi e tra i due sta per scattare anche un bacio dopo il combattimento questa è una cosa che probabilmente vedremo in Shulk o nella prossima puntata o comunque in una delle successive poi hanno presentato un po' meglio Captain America New World Order e questo è interessante perché è il film su cui ci hanno dato maggiori informazioni ci sarà come villain il leader personaggio già comparso verso la fine di The Incredible Hulk quello con Edward Norton del 2008 interpretato da Timothy Blake Nelson che lo interpreterà anche in questo caso e a quanto pare dovrebbe essere anche in Shulk il tizio che ha mandato la squadra di demolizione dovrebbe essere proprio il leader come molti avevano preventivato quindi pare che sarà in Shulk quindi Shulk in qualche modo si potrebbe collegare a Captain America New World Order e c'è anche Joaquin Torres che sarà il nuovo Falcon che era quel personaggio cui Falcon dava il costume alla fine di The Falcon e The Winter Soldier per cui il sidekick di Captain America ovvero il Captain America di Sam sarà il secondo Falcon quindi il secondo Captain America come sidekick come spalla il secondo Falcon e voi direte e perché non Bucky adesso ve lo spiego peraltro tornerà a Isaiah il primo super soldato nero che era stato imprigionato e sacrificato in quanto nero che avevamo visto in The Falcon e The Winter Soldier per cui questo conferma che quella serie sarà importante da guardare se si vuole capire effettivamente come siamo arrivati a questo punto nel film questo come sempre lo dico di continuo da una parte mi fa piacere perché almeno non mi sembra di aver sprecato tempo a guardare quelle serie dall'altra mi dispiace per chi magari le serie non le ha viste e pensa ma come ad esempio ieri in live abbiamo visto il trailer di The Mandalorian stagione 3 chi non ha visto The Book of Boba Fett giustamente in cui ci sono delle cose di trame importantissime per la tre stagione di The Mandalorian che fanno raccordo tra la seconda e la terza hanno detto ma scusate ma perché c'è questa cosa che nella seconda stagione era andata diversamente e non dovrebbe esserci e io e Rob abbiamo dovuto spiegare il perché e la gente si è poi cazzata ha fatto ma come io devo guardare The Book of Boba Fett se voglio capire questa cosa eh sì e uno dice guardati solo le puntate su Mandaloriano no perché poi Mandaloriano ha dei momenti in cui interagisce con Boba Fett e la sua trama e quindi non capiresti a scena il perché sta succedendo qualcosa se non ti guardi anche il resto della serie è una bella scammata per quanto mi riguarda però vabbè hanno presentato come ho anticipato il il cast dei Thunderbolts allora i Thunderbolts film che uscirà nel 2024 se non erro sono una sorta di Suicide Squad ma della Marvel con personaggi che sono eroi ma che hanno avuto un passato tormentato che non sono sempre stati proprio buonissimi ok secondo me questa formazione è interessante ma fino a un certo punto innanzitutto noterete che non ci sono Zemo e Abominio come si pensava ma questo perché perché ci hanno presentato sette personaggi inizialmente ci hanno detto che dovevano essere nove quindi questi sono personaggi di cui hanno parlato non è detto che ce li abbiano mostrati tutti però quindi non disperiamoci subito sono Red Guardian che è interpretato da David Harbour e che abbiamo visto in Black Widow la Contessa Valentina Allegra della Fontaine che è colei che li ha reclutati nelle serie l'abbiamo vista anche nella scena post credit di Black Widow Ghost ovvero la villain di Ant-Man and the Wasp interpretata da Anna John Kamen il vero nome Ava del personaggio US Agent ovvero John Walker visto in The Falcon and Winter Soldier altro collegamento a quella serie interpretato da Wyatt Russell figlio di Kurt Russell White Wolf che sarebbe l'ex soldato d'inverno questo film Thunderbolts si va a ambientare nello stesso momento a livello cronologico rispetto a Captain America New World Order quindi White Wolf Bucky non sarà con Sam perché in quel momento sta facendo qualcos'altro con i Thunderbolts e poi c'è Taskmaster interpretato da Olga Kurilienko è una formazione un po' strana giustamente parlando con la Svet lei mi ha fatto notare che ci sono ben tre personaggi che hanno più o meno le stesse capacità Red Guardian Yelena Belova e anche White Wolf più o meno sono allora Yelena Belova che è la nuova Black Widow e Red Guardian peraltro potrebbero creare una dinamica interessante perché sono circa padre e figlia per finta ma hanno quel tipo di legame lì quindi non sono realmente imparentati lo sapete quindi la dinamica è interessante però tutte e due sono agenti russi White Wolf è stato un agente programmato dai russi che agiva contro la sua volontà però sono tre personaggi che hanno la forza bruta effettivamente White Wolf ha anche il siero del super soldato quindi ha qualcosina in più però poi tra tutti i personaggi che potevano mettermi nei Thunderbolts Taskmaster che per l'amor di Dio è interessante perché lui va lei in realtà lei va a copiare perfettamente le mosse dei suoi avversari figo eh però boh mi sembra un po' così come squadra cioè ci si lamentava della prima Suicide Squad quella di Eier che sembrava sgangherata e non è che fosse abbassero così forti non è che questa squadra mi sembri tanto meglio tra l'altro vorrei capire quali sono le grandi capacità di Valentina Lega della Fontaine perché mi sembra solo un'intrallazzona più che una che può combattere e aiutare seriamente degli eroi vedremo vedremo cosa accadrà io sono curioso per il film è stata mostrata l'immagine con loro disegnati tutti fieri vediamo cosa succederà io sono leggermente perplesso perché alcuni membri della formazione non mi fanno impazzire tipo anche Ghost Spettro boh cioè è interessante il potere che ha però boh non c'è non avrei mai pensato a lei se avessi dovuto pensare a chi mettere nei Thunderbolts vedremo infine hanno presentato The Marvels che uscirà a luglio 2023 e nella clip che hanno mostrato ci sono ci sono per l'appunto Phantom che sarebbe Monica Rainbow dopo aver acquisito i poteri in Wandavision Captain Marvel e Miss Marvel che combattono tutte e tre in costume e si vedono anche Goose e Nick Fury quindi anche questo film mi sembra interessante lo vedremo a giugno scusate a luglio 2023 quindi tra meno di un annetto vedremo come sarà e pare che partirà esattamente dalla scena post credit che si vede in Miss Marvel quindi Miss Marvel come sapevamo viene promossa dalla serie ai film e pare che Iman Vellani avrà che è l'attrice che l'interpreta avrà un bel lavoro da fare perché Miss Marvel sarà uno dei personaggi più importanti delle prossime fasi avrà un ruolo importantissimo secondo me sono tutte rivelazioni cicciose è vero che di nuovo hanno presentato giusto Armor Wars che poi in realtà non è neanche nuovo perché sapevamo che sarebbe uscito perché l'avevano annunciato tempo fa ma non era stato inserito nella timeline mostrata al Comic Con però era il segreto di Pulcinella lo sapevamo che ci sarebbe stato quindi di nuovo nuovo ma neanche Werewolf by Night si sapeva già che era in produzione non si era più saputo niente quindi è stata una sorpresa che ce lo presentassero così col trailer e tutto però si sapeva che l'avremmo visto entro la fine dell'anno magari non mi immaginavo che sarebbe uscito così presto ma entro la fine dell'anno doveva uscire quindi se ci pensate di nuovo non abbiamo avuto niente abbiamo avuto però tanti approfondimenti di cose che già sapevamo e di cui avevamo solo una data e un logo peraltro in alcuni casi i loghi sono anche stati completamente cambiati quindi per quanto mi riguarda è stato un evento piuttosto soddisfacente su alcune cose sono convinto su altre un po' meno però comunque mi è sembrato un evento particolarmente sugoso quindi secondo me ci sono delle cose interessanti tra le cose che mi interessano di più ci sono Werewolf by Night Secret Invasion perché voglio capire se è figa come sembra o se è l'ennesima sola Thunderbolts perché mi interessa l'idea di un gruppo di semi anti-eroi in salsa Marvel Studios che però non sono cattivi come il Suicide Squad sono persone che hanno avuto un passato magari da cattivi ma che poi si sono redente per cui vediamo che cosa faranno per cui fate sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi qual è il vostro annuncio preferito quali sono se sono più di uno i vostri annunci preferiti io vi abbraccio vi ringrazio infinitamente grazie a tutti i miei seguenti che hanno dato tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti